Tragedia nelle scorse Una donna è stata investita mortalmente mentre attraversava sulle strisce Natale alle porte, gli auguri di Federico Borgna, presidente della provincia e sindaco di Cuneo Costruire un brand è la mission delle terre di pianura per migliorare il proprio appir turistico Sono scesi in campo per recuperare il match del 24 novembre rinviato per allerta meteo VBC Mondovi perde al tie break contro Reggio Emilia Ben ritrovati cari telespettatori, un buonasera dal notiziario di Telegram Da cura della nostra redazione giornalistica Notiziario che purtroppo apriamo con una tragedia avvenuta questa mattina poco prima delle 7 a Beinette Una donna, Emanuela Mazzitelli, 44 anni e morta, travolta da un furgone mentre attraversava sulle strisce pedonali La travolta a un furgone in una zona, quella di località Villaggio Colombero nel comune di Beinette Storicamente pericolosa per pedoni e ciclisti La vittima si chiama Emanuela Mazzitelli, aveva 44 anni, aveva lievi problemi di disabilità Viveva con i genitori che lascia insieme a sei fratelli Stava attraversando la provinciale Cuneo Beinette quando è stata uccisa Erano da poco passate le 7 del mattino La donna ha attraversato sulle strisce pedonali all'altezza di Aram Tappeti Come faceva ogni mattina per raggiungere il centro diurno di Corso Francia In sua compagnia una sedicenne, nonostante sia stata anche lei urtata dal furgone Per fortuna si è accorta in tempo del mezzo e l'ha schivato, procurandosi ferita alla spalla Emanuela, Manuela, per tutti gli amici invece no Alla guida del furgone, un cuneese che lavora per un'impresa commerciale di Caraglio Era diretto verso Mondovì La tragedia a destra, cordoglio in paese, a Cuneo Manuela, appassionata di cucito Era molto conosciuta, ma ha acceso anche rabbia, soprattutto fra i residenti Rotonda e autovelox non sono sufficienti, secondo i più, a far sì che auto e camion Un 15.000 al giorno su quel tratto guidino a velocità meno sostenute e con maggiore prudenza Ed in effetti basta osservare per qualche minuto l'attraversamento pedonale Sul quale Emanuela è morta, per rendersene conto Poche le macchine che si fermano per consentire l'attraversamento in sicurezza Tante quelle che tirano dritto La cronaca ora ci porta ad Alba I gnoti hanno rubato numerosi smartphone, reparto di medicina dell'ospedale Il raid questa notte, ad accorgersi della loro presenza, uno dei ricoverati Che ha richiamato l'attenzione degli infermieri mettendoli in fuga L'ASL Cuneo 2 sta raccogliendo tutte le informazioni necessarie per sporgere la denuncia Il Polo Museale del Piemonte garantisce tuttora la regolare apertura al pubblico Del complesso monumentale del castello di Racconigi Inizia così la nota inviataci dal Polo Museale del Piemonte In seguito alle dichiarazioni del consigliere regionale del Piemonte Paolo Bongioanni Sulla necessità di tornare a usufruire al 100% della reggia Il Polo Museale del Piemonte, istituto periferico del Ministero per i beni, le attività culturali e per il turismo Pur tra molteplici difficoltà derivate dalla grave persistente carenza di personale che lo connota Purtroppo dalla sua istituzione Garantisce tuttora la regolare apertura al pubblico del complesso monumentale del castello di Racconigi Inizia così la nota inviata dal Polo Museale del Piemonte In seguito alle dichiarazioni del consigliere regionale del Piemonte Paolo Bongioanni Sulla necessità di tornare a usufruire al 100% della reggia di Racconigi L'appalto per l'intervento di manutenzione straordinaria del parco Per l'importo finanziato dal Ministero di 900.000 euro Sta procedendo regolarmente, spiegano dal Polo Museale Grazie all'incarico conferito al nuovo responsabile unico del procedimento Che con spirito di grande collaborazione il Polo Museale della Puglia Ha consentito di far collaborare a tal scopo col Polo Piemontese Gli altri affidamenti si legge nella nota del Polo Inerenti per esempio il lavoro di restauro dei serramenti del castello e delle coperture della margaria Sono invece in capo al segretariato regionale del MIBACT per il Piemonte Che è già stato sollecitato al riguardo I lavori della margaria peraltro dovrebbero già iniziare nei prossimi mesi, dicono dal Polo Bongioanni nell'intervista aveva sottolineato come il direttore del castello Supplisse anche le funzioni di operaio del parco Non consta che il direttore del castello debba lavorare come operaio nel parco Ne peraltro potrebbe farlo, sostengano dal Polo Museale Ci si domanda chi possa aver diffuso tale informazione che pare priva di fondamento A riguardo, specificano dal Polo, si rende invece noto che il direttore del castello Può direttamente impegnare e utilizzare la gran parte degli introiti del museo Per interventi di manutenzione ordinaria del complesso E quindi non si comprende perché mai dovrebbe essere costretto a fare lui stesso gli interventi Anziché affidarli alle ditte del settore Si è svolta in prefettura Cuneo la cerimonia di consegna Delle onorificenze dell'ordine italiana Conferite dal Presidente della Repubblica 12 cittadini della Granda Che si sono distinti nel sociale e per la loro attività al servizio degli altri Sono stati insigniti tra gli altri Del loro finificenza di commendatori Giuseppe Ambrosoli, Presidente ANAP Confartigianato Giorgio Groppo, già Presidente del CSV Ed Enrico Mellano, dirigente del Lions Club Mondovì a consegnare le onorificenze Il prefetto Giovanni Russo Qui vedete alcuni momenti appunto dell'evento Che nell'occasione ha ovviamente anche rivolto i migliori auguri di buone feste Il Natale è davvero alle porte Tempo di auguri e di bilanci Auspici e buone feste anche da Federico Borgna Presidente della provincia di Cuneo e anche sindaco del capoluogo provinciale Chiediamo al sindaco di Cuneo e nonché presidente della provincia Federico Borgna Un augurio a tutti i nostri concittadini cunesi e della provincia a Granda Beh, innanzitutto tanti auguri a tutti i nostri concittadini e a tutti i telespettatori di Telegranda Vi auguro davvero di cuore un buon Natale A voi e alle vostre famiglie E un 2020 che sia all'altezza delle vostre aspettative Abbiamo bisogno di leggerezza, di serenità E davvero vi auguro di cuore, anzi auguro di cuore a tutti quanti noi Che questo Natale e il 2020 sia un anno di leggerezza e serenità per tutti Come sindaco lei ha ricevuto recentissimamente un premio Sì, ho ricevuto questo riconoscimento da Economy Che è una testata molto prestigiosa Che ha fatto tutto un lavoro sull'inclusione Credo che il tema dell'inclusione sia il tema di questo momento Perché inclusione significa inclusione di persone con disabilità Come nel mio caso, ma inclusione di genere Inclusione di persone che arrivano da altre parti del mondo Penso che davvero la sfida culturale dell'inclusione sia la sfida di questo momento storico E sono onorato di avere a sorpresa ricevuto questo riconoscimento Sindaco e Presidente, che cosa si aspetta sotto l'albero di Natale? Oh signor, che domanda impegnativa In realtà mi aspetto cose piccole Mi aspetto del buon senso e della comprensione Se ragiono a livello istituzionale Credo che davvero c'è bisogno di ritrovare serenità nei toni della dialettica politica C'è bisogno di ritrovare il significato del rispetto degli altri A maggior ragione di chi non la pensa come noi C'è bisogno di ritrovare la fiducia tra le persone E quindi c'è bisogno di trovare senso di comunità Ecco, sotto l'albero spero di trovare tutte queste cose Che sono apparentemente piccole Ma sono le cose che condizionano in positivo o in negativo la nostra vita Grazie Un sistema di tre monitor senza fili per seguire i pazienti in pronto soccorso È l'ultima donazione dell'Associazione Amici dell'Ospedale di Savigliano Onlus Al nosocomio cittadino Un sistema che consente di liberare sale visita in precedenza occupate spesso da pazienti monitorizzati Ottenendo vantaggi quindi anche sul piano della logistica Il paziente può infatti così essere monitorizzato in barella e in qualsiasi spazio del pronto soccorso Dotato di antenne della rete wifi L'apparecchiatura ha un valore economico di circa 40 mila euro Torniamo ora a parlare di turismo in particolare di terre di pianura L'Ascom di Savigliano farà da conduttore di un progetto che mira al rilancio del turismo in queste terre di mezzo Un'idea apprezzata anche dal Trentino Che turismo sarebbe senza la pianura? Quali sono soprattutto i prossimi passi? E' sicuramente un territorio che deve fare un percorso di crescita perché è rimasto indietro rispetto alla montagna, rispetto alla collina I prossimi passi che chiediamo prevalentemente ai sindaci e ai comuni in questo momento di pianura E' di iniziare con una manifestazione di interesse per dimostrare l'interesse a fare rete A superare quelli che sono un po' i cosiddetti campanilismi Quelli che sono un po' gli interessi dei microterritori In favore, senza rinunciare a questi, ma in favore comunque di una politica più allargata da questo punto di vista E questo è già un primo passaggio fondamentale Dopodiché allora iniziamo a lavorare su quello che è un discorso di identità nel nostro territorio Quindi la pianura non ha un nome, quando si dice Langa, Langeroero tutti sanno esattamente a cosa ci si riferisce Occorre trovare un brand Occorre trovare un brand, esatto, ed è quello che dovremmo andare a fare E poi arrivare pian piano ad una pianificazione che ci porti ad essere non più una terra di passaggio Per andare da un'altra parte, ma diventare una terra di destinazione turistica Cioè essere noi come un punto di arrivo di un turismo Trentino è nell'immaginario di tutto il grande maestro per quanto riguarda il turismo Che cos'è che potete consegnare alle terre di pianura per valorizzarsi un po' di più? Il futuro sarà sempre più la messa a sistema delle nicchie Le nicchie che sono per chi l'ha appassionato il vero centro del mondo E quindi l'esempio della pesca è stata veramente provocatoria Perché è un piccolo numero di appassionati nel mondo Che si muove per questa passione nella pesca nocchile Perché parliamo di sostenibilità, di un turismo che duri nel tempo Però questo è solo un piccolo esempio di molti altri Che chiaramente poi anche voi dovrete cercare E che troverete senz'altro perché avete un panorama di risorse infinite Soprattutto nell'astronomia, ma anche nell'ambiente, nel territorio, nell'outdoor Però sempre coltivando le passioni di queste nicchie di mercato Che esistono e non aspettano altro di venire e muoversi per fare nuove esperienze Puoi ricordare di comunicare bene non scegliendo soltanto un mezzo Eh, la comunicazione, senza la comunicazione questo non arriva Resterebbe un tesoro nascosto E quindi evidentemente la comunicazione nei vari canali Dal digital in primis, ma evidentemente poi è l'ospite, il vero comunicatore Quando scoprerà qualcosa con sorpresa spesso alle volte Una nicchia nuova, poi il tam-tam e poi partono Chiaramente anche gli entusiasmi degli operatori Che in quella nicchia magari hanno creduto Con il supporto di chi fa regia Gli ambiti, i vostri territori, le vostre amministrazioni Che ovviamente dovranno scoprire un percorso Che darà senz'altro soddisfazione Perché questo è il metodo Nulla è già pronto, però è disponibile senz'altro Nuovi passi avanti a Savigliano e a Marene per la sistemazione di due incroci Lungo la strada provinciale 662 nel tratto Saluzzo-Savigliano Prima dell'area commerciale in direzione Saluzzo E nel tratto Savigliano-Marene a Marene all'incrocio con via Roma Negli scorsi giorni infatti i lavori sono stati affidati Nei primi mesi del 2020 si provvederà alla stipula dei contratti E con l'arrivo della stagione favorevole partiranno i lavori in entrambi i posti Tra gli interventi previsti, l'ampliamento del tracciato Nuove isole divisionali L'esecuzione dell'impianto di illuminazione a LED Il nuovo asfalto e la segnalettica ovviamente orizzontale e verticale Ci spostiamo ora a Trinità Il comune ha riscoperto in una soffitta Un'antica mappa storica del paese Che è stata riqualificata e a breve sarà presentata Ci troviamo nella città di Trinità Quella che vedete accanto a me, questo tubo bianco È in realtà un documento molto importante, storico È un elemento di grande valore anche culturale Una mappa storica della città di Trinità Che è stata restaurata a lungo E che a fine gennaio, Sindaco Zucco, verrà presentata alla cittadinanza Sicuramente è una mappa del 1790 È acquerrellata, è finissima, è di una preziosità enorme In effetti anche il Ministero A quale abbiamo dovuto chiedere l'autorizzazione per il restauro Ha spiegato che una mappa così grande non si era mai vista Pensavano, avevamo visto una mappa di 4 metri Pensavano fosse il massimo C'è un problema, avete visto ovviamente sul servizio Proseguiamo con le prossime notizie Vediamo se la regia riuscirà a metterla a posto E ancora mandarla in onda di questa sera Se no ve lo proporremo sicuramente nelle prossime ore Notizie che ci portano ora a Fossano Sabato 21 dicembre Non si paga la sosta in Piazza Castello La decisione è stata presa dalla Giunta Comunale Tallone Per favorire il commercio cittadino E agevolare gli acquisti natalizi Era già stata sperimentata lo scorso sabato Presentato i delitti perfetti di Dio Il nuovo libro di Giampiero Amandola Ispirato a un fatto di sangue Realmente accaduto a Cuneo Si tratta dell'omicidio di Lucio Liprandi Farmacista e politico di potere Ammazzato nella sua casa di Piazza Galimberti A Cuneo nel 1994 I delitti perfetti di Dio Prima fatica letteraria di Giampiero Amandola Giornalista di lungo corso Quest'opera si ispira a un fatto di sangue Realmente accaduto nella città di Cuneo nel 94 Nel 94 esatto Hanno trovato ucciso Orrendamente ucciso Col cranio squarciato Un medico di Cuneo Hanno arrestato il fidanzato Della figlia che era un po' la piccola nera Della famiglia E lo hanno visto prima in Piazza Galimberti Cioè vicino alla casa del medico E poi l'hanno perquisito la macchina E hanno trovato un tagliendino In un'autostrada che diceva che lui era uscito all'incirca Un'ora dopo l'omicidio Quindi avevano questi due indizi L'hanno messo in galera, l'hanno arrestato Cinque giorni dopo però arriva Un comunicato dell'autostrada Un comunicato di servizio Niente di particolare Che dice La macchina obliteratrice del casello Dell'autostrada che passa vicino a Cuneo Batteva un'ora sbagliata Cinque ore dopo il reale passaggio Quindi Lui che risultava essere passato alle nove Secondo il suo ticket In realtà era passato alle quattro di pomeriggio Quindi non poteva avere ucciso E di conseguenza è stato scarcerato E da lì il mistero per Cuneo è rimasto Nel senso che Non si è mai saputo chi è stato l'assassino Allora io ho cominciato a dare un'occhiata alle indagini Agli atti Ho visto le foto attorno al cadavere C'erano dei segni Dei segni strani A cui la polizia non ha dato alcuna importanza Invece io ho capito Ho pensato di capire Che quelli erano i numeri di Fibonacci Sapete quelli sulla mole? Ecco, proprio quelli Le proporzioni divine di Fibonacci E allora siamo di fronte a questa situazione Un cadavere Col cranio squarciato A fianco dei numeri Che qui nessuno capisce niente Tranne me in questo caso Che sono i numeri della bellezza I numeri aurei di Fibonacci Da qui parte la mia indagine letteraria Che arriva a trovare un assassino Che ovviamente non vi dirò Perché dovete leggere il libro Arriva a trovare un assassino E quindi a dare una soluzione A questo giallo almeno letterario Che finora la polizia Lascia come irrisolto È un cold case Tradotto letterariamente Con una scrittura Che se vogliamo Si è ispirata a Fruttero Lucentini Un libro in cui si ride molto Perché il fatto è di sangue Quindi è cruento Però l'indagine ha degli aspetti Molto divertenti Chi è che indaga? Un magistrato napoletano Che ha avuto un suo fatto Che adesso non spiego Ma comunque che lo ha distrutto Psicologicamente a Milano Ed è stato trasferito a Cuneo Che lui considera una specie di Seppellimento Perché dice a Cuneo Non succede mai niente Lo dice anche Parla un po' in napoletano E quindi Si trova di fronte A questo omicidio Che per lui è un tentativo Di ritornare A essere magistrato veramente E quindi cerca l'assassino In tutti i modi Non si preoccupa più di nient'altro Ha un'ossessione Quella di trovare l'assassino E infatti lui Che è entrato in depressione A seguito del suo arrivo a Cuneo Viene curato da uno psichiatra Che dice Ma lei risolverà il caso Proprio per la sua depressione La sua malattia mentale Che la fa pensare solo all'assassino E nessuno lo può distruggere Lei lo troverà E infatti lui lo trova Forse E riproviamo allora a vedere Se il servizio di Trinità funziona Per chi si fosse collegato ora Il comune di Trinità Ha riscoperto in una soffitta Un'antica mappa storica Del paese Che è stata restaurata Ci troviamo nella città di Trinità E quella che vedete accanto a me Questo tubo bianco È in realtà un documento Molto importante Storico È un elemento di grande valore Anche culturale Una mappa Storica della città di Trinità Che è stata restaurata a lungo E che a fine gennaio Sindaco Zucco Verrà presentata alla cittadinanza Sicuramente È una mappa del 1790 È acquerrellata È finissima È di una preziosità enorme In effetti anche il ministero Al quale abbiamo dovuto chiedere L'autorizzazione per il restauro Ha spiegato che una mappa così grande Non si era mai vista Pensavano Avevamo visto una mappa di 4 metri Pensavano fosse il massimo Questa è 7,90 metri Quindi per 2,40 metri di larghezza Ma è di una bellezza Io devo anche ringraziare La Fondazione Casa di Risparmio di Fossano E la Fondazione Casa di Risparmio di Torino Perché non ce l'avremmo fatta Con le nostre forze A fare il restauro A pagare il restauro E quindi La mappa che è rimasta dormiente Diciamo per qualche anno In condizioni anche Non proprio ottimali Era in condizioni abbastanza pietose L'abbiamo data a un antiquario Per stenderla È rimasta 7,8 anni distesa Per poterla poi restaurare in futuro E l'anno Due anni fa Finalmente abbiamo avuto L'autorizzazione dalla sovrintendenza E dal Ministero Per poterla restaurare Questo studio addirittura Faticava a tenerla Perché era talmente lunga Che non ci stava tutta E a fine gennaio Contiamo di inaugurare E presentarla al pubblico Sopra abbiamo il grosso tavolo Che abbiamo appena finito Di mettere in sesto E sarà la sala delle mappe L'ultimo piano del comune Insomma è un documento Un elemento storico Di grande rilevanza Ma di grande rilevanza Di grande valore Oltretutto io che l'ho vista Dagli inizi fino alla fine Del restauro Addirittura le cascine Hanno ancora il nome di ora Tutte le cascine col nome È da piangere Vederla Da piangere di gioia Vedere una mappa di questo genere In effetti io pianto Quando l'ho vista Quando era maltrattata E poi quando l'ho vista Così finita Perché è stato un lavoro Certosino E sono stati bravissimi C'era anche la provincia di Cuneo Agli Economy Inclusion Awards 2019 Che si sono svolti Nei giorni scorsi a Milano Durante l'evento Che ha premiato alcune aziende Che nel 2019 Hanno inserito Nelle loro organizzazioni Progetti legati All'inclusione Un riconoscimento speciale È stato consegnato Al sindaco di Cuneo E presidente Della provincia Federico Borgna Per il suo impegno Nell'abbattere le discriminazioni Trasformandoli in fattori di unione E dialogo Penso Ha commentato Borgna Che il percorso di inclusione Richieda La somma di due volontà Quella di chi include E quella di chi viene incluso Pagina sportiva Parliamo di pallavolo maschile Ieri sera Mercoledì 18 dicembre Il VBC Mondovì È sceso in campo Per recuperare il match In programma domenica 24 novembre Era stato rinviato Lo ricordiamo Per l'allerta meteo Che aveva costretto Il comune di Mondovì A chiudere tutti Gli impianti sportivi Cittadini I morregalesi Hanno ceduto però Al tie break Rimandando ancora L'appuntamento Con la prima gioia Stagionale Dopo due ore di gioco Il VBC Synergy Mondovì Cede al tie break Nel match interno Con Reggio Emilia Rimandando ancora L'appuntamento Con la prima vittoria Stagionale Peccato Perché questa volta I morregalesi C'erano andati Davvero vicini Trovandosi a condurre Per due set a uno Dopo aver capovolto L'iniziale svantaggio Sono stati infatti Gli ospiti A scattare meglio Dai blocchi di partenza Provando l'allungo giusto In un primo set Molto equilibrato Fino al 16 pari Sotto per un set a zero Mondovì ha reagito Con carattere Dominando I successivi due parziali Conquistati Con un doppio 25 a 19 Con le spalle al muro Reggio Emilia Nel quarto Ha messo in campo Tutta la propria voglia Di rimanere attaccata Al match Scappando Dopo un inizio Punto a punto E riuscendo A portare l'incontro Al quinto set Il tie break Il tie break ha avuto Poca storia Gli ospiti Lo hanno approcciato Meglio I monregalesi Hanno provato A restare in scia Ma alla fine Hanno dovuto cedere Con il punteggio Di 15 a 8 Mondovì si prende Un punto Che non soddisfa Però coach Mario Barbiero Potevamo fare di più Ha detto il tecnico Del VBC Abbiamo giocato bene Per due set Poi siamo spariti Dal campo È un comportamento Da evitare L'aggressività Si dimostra Nei momenti Che contano E nel girone Di ritorno Ce ne saranno Tanti C'è poco tempo Per rammaricarsi Sabato sera Mondovì torna In campo Di nuovo in casa Al pala manera Arriva All'Olimpia Bergamo Per l'ultima partita Del girone di andata Domenica 22 dicembre Speciale laboratorio Al filatoio di Caraglio Per bambini e famiglie Potranno realizzare Decorazioni natalizie Da appendere All'albero di Natale O da usare Per decorare la casa O la tavola In occasione Delle prossime festività Si inizierà Alle 15 e 30 Con la visita guidata Alla mostra All'altra tela di Leonardo Seguirà quindi Il laboratorio Appunto Che i bambini Potranno svolgere Insieme ai propri genitori Nonni O chi sarà Con loro Ad accompagnarli Per un pomeriggio In compagnia L'evento ha una durata Complessiva di 2 ore Un costo di 5 euro A persona E con questo Da Telegranda È tutto Grazie come sempre Per averci seguito Grazie a tutti 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 Grazie a tutti